Licenziati in presidio davanti all'azienda da oltre un mese, non si ferma la protesta dei lavoratori della NEC di Monselice. Somenica dal telegiornale della Veneto, un centinaio di persone attorno ai 26 impiegati della NEC di Monselice licenziati più di un mese fa. Questo pomeriggio assemblea pubblica per rivendicare i diritti dei lavoratori, situazione che colpisce diverse realtà del padovano. Hanno aperto i cancelli della NEC per spiegare le loro ragioni l'assemblea pubblica dove da più di un mese nessuno entra, fuori a controllare i carabinieri. Sul piazzale accanto ai rifiuti da smaltire 20 donne e 6 uomini che hanno lasciato il loro paese, il Marocco, per trovare lavoro e in Italia da decenni, con famiglie da crescere, costretti a dover difendere i loro diritti. 26 licenziati. Ashraf, 11 anni, parla per sua madre. Anche alle scuole devo pagare punta, mi hanno mandato anche la bolletta per pagarlo. E non è giusto che tua mamma sia costretta a restare lì fuori? Sì. Trattative per ora in stallo, saltato anche l'ultimo tavolo in prefettura. Si sta complicando giorno dopo giorno finché la cooperativa non cambia idea e revoca il licenziamento perché quella è l'unica soluzione che possiamo accettare per sbloccare la situazione. Questa mano è adatta a questa azienda oro e siamo buttati qua fuori. Io non sto aspettando questo. La preoccupazione contagiosa, tante le situazioni di crisi nel Padovano. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi a un intensificarsi anche di chiusure per non parlare della Ayer, per non parlare della lag a due carrare, della Alison. A solidarizzare con i lavoratori della NEC quelli della Ayer di Campodoro, multinazionale cinesi di frigoriferi. Lì sono in 102 in presidio da settembre. I cinesi hanno deciso di andare via. Possono andare via ma però il governo bisogna mettere soldi. Così possiamo lavorare. Made in Italy, sempre serve in questo mondo. La legna brucia, il bracere arde, a far sentire meno freddo sotto il gazebo della protesta, la solidarietà di chi come i Bude, spazzino dell'ACIGAS APS di Padova, è stato costretto a rivolgersi alla giustizia, ha vinto la causa assieme ad altri tre colleghi ed è tornato al lavoro. Comunque siamo qua, chi tocca a uno, tocca a tutti. Da Ziago a Pieve di...